La rimessa, la stessa, vuole spazio Lillard, 6 secondi, 5 secondi, step back! Tiger Lillard! Non c'è time out! Morris! Over! Time alla ballarina! Oh, chi c'è? Poi scambia con Carmelo Anthony! Tira la distanza proibitiva! 44 e non sono gatti! Tocca Gordon, la prende Lillard! Occhio che non è finita! Take time ancora, magari! Attacchato Riffo, step back! Da 3, da 3, da 3! Dobbio Lillard! Da 3, 47! E adesso Harrison deve prendere Lillard che palleggia dietro la linea e diamo a 3 punti! Step back! Lillard! 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 Pari 135, 50 di Lillard! Corre in cronometro! Reverse! Step back! 3! Corto! Secondo overtime!